Il sindaco Antonio Francesco Vivarelli Colonna sempre presente quando si parla di sport in modo particolare, lui sportiva a 360 gradi. Centro commerciale Aurelia Antica, oggi presentazione, un'anteprima dell'evento di domani sera in Piazza Duomo, organizzata appunto dalla signora Rosanna Conte Cavini e dall'amministrazione comunale in cui organizzazioni. Operazioni di peso, veramente intanto grazie Antonio Francesco della tua presenza che è sempre gradita. Grazie a voi, grazie a Rossanna Conte Cavini, un'istituzione della box sempre ad altissimi livelli internazionali che ha il merito di portare questi eventi nella nostra città di Grosseto in un momento fondamentale di rilancio comunicavazionale, di voglia di vivere. Veniamo da una vittoria calcistica impressionante dove Grosseto veramente ha dimostrato grande maturità. Domani sarà un evento similare come importanza, ci saranno dei campionati italiani veramente importantissimi all'insegna proprio della ripresa e della rinascita. Sì, poi domani sera Antonio Francesco poi vedrai, non solo ci sarà pugilato perché quando organizza la signora Rosanna Conte Cavini, ma in questo caso in modo particolare perché festeggia il suo quarantesimo anniversario di attività professionistica con la grande box, ci sarà canzoni, moda e ci sarà veramente spettacolo, poi il culmine poi intorno alle 22.30, 22.45 con il campionato italiano. Però prima combatte anche il nostro unico professionista grossetano, Simone, detto il bandito Giorgetti, che disputa un match importante, è una semifinale internazionale della IBO, perché vinta questa sicuramente poi entro l'anno dovrebbe fare un titolo molto importante. Ma io prima l'ho osservato nelle operazioni di peso, grande veramente adrenalina, già palpabili nell'area, non vedo l'ora che arrivi domani sera per vedere questo grandissimo campione appunto cimentarsi e sfidare appunto lo sfidante. Entro Francesco, io ti ringrazio ancora una volta e buco al lupo per tutto. Viva la box, viva Rossana Montegavini e grazie anche a te che sei un grande professionista. E ci vediamo domani sera su Ringhe. Tanti eventi in piazza Tante, vi aspettiamo.